Dove eravamo rimasti? Se hai colto la citazione, hai almeno la mia età, forse qualcosa di più. E non è una bella cosa. Ho saltato un po' di settimane per questioni personali e stasera riprendo con qualcosa che va proprio tendenzialmente fuori tema rispetto alle cose che faccio di solito, anche rispetto a quelle che vanno fuori tema. Ma ci tengo tantissimo perché mi sono divertita tantissimo e ci tengo a dire cosa ne penso. Giovedì sera c'è stato un piccolo evento di YouTube che ha catalizzato l'attenzione di circa più di 2000 persone per più di due ore. Ossia una diretta sul canale di Michele Boldrin, credo, io l'ho seguita lì ma penso che sia stata sparata anche su quello di Dallimello e su Liberi Oltre, che prevedeva un confronto appunto tra il professor Michele Boldrin e Dallimello. E' un'altra cosa che ci tengo a dire che io in genere non amo seguire le live. Anche se magari una live mi interessa, preferisco aspettare che si faccia, si svolga per conto suo e io riguardarla dopo con calma, non in diretta. E comunque in generale preferisco i video montati o un po' montati rispetto alle live perché nelle live per forza ci sono un po' di tempi morti che io trovo noiosi. Giovedì sera mi sono divertita da morire. Ma davvero c'è, al di là di ogni considerazione, una cosa buona che si può dire di tutti e due è che non sanno cos'è sia un tempo morto. E' stato tutto molto serrato. Anche quando Dallimello a un certo punto è morta la connessione, non riusciva più ad interagire, il professor Bodrini è riuscito a tenere, a fare bappute, a cercare di tenere testa l'attenzione. E comunque tutti e due sono veramente molto vivi, energici, serrati nel dialogo e questo intrattiene, è intrattenuto, mi sono divertita davvero davvero tanto. Allora, il titolo, ok, sì, io non penso che sia interessante per una persona della mia età stare lì a decidere chi ha vinto e chi ha perso. Sono cose per i bambini. Non ho trovato particolarmente fine da parte di Dalli. Al termine della live scrivere un commento sotto che aveva vinto lui. E infatti poi il giorno dopo c'è stato un po' di flame dove io sono stata molto mostrativa perché mi diverto moltissimo a fare i flame. E dove appunto si discuteva ok, cosa vorrebbe dire questa cosa che Dalli ha vinto, in che senso avrebbe vinto. E anche lui ha fatto un video dove ha dato il suo riassunto di quello che secondo lui è successo. Pure questo l'ho trovato un pochino cringe perché la live, e lì vi metterò in descrizione sia il link del confronto tra Dalli Mello e Michele Boldrin sia il link del video di Dalli. E lì non c'è bisogno di andare a chiedere a Dalli cosa è successo. Se uno è interessato, si guarda quello che è successo e ne fa le sue deduzioni. E io ne faccio le mie deduzioni. Già che l'ha fatto lui, lo posso fare anche io di farne le mie deduzioni. Allora, io ho detto appunto che in realtà l'ho trovata interessante e mi sono divertita tantissimo. È un format che ormai Boldrin ha ripetuto più e più volte e che sta affinando. e che credo che faccia riferimento professore, mi smentisca se sbaglio al format del dibattito come si fa nei licei e nei college americani. Per cui ai due contendenti vengono assegnate delle tese cioè su un argomento si assegna la tesi all'uno e la tesi all'altro in modo che si esercitino nella capacità di argomentare logicamente. E quindi insomma proprio il dibattito all'americana che poi anche il dibattito politico cioè nel senso l'arena tra politici per una campagna elettorale e praticamente in tutte le altre occasioni e anche in questa una cosa che si nota è che a certo punto il professore data la disparità con l'interlocutore assume la posizione docente. La posizione docente non è sto qui e io ti spiego come funzionano le cose la tecnica illusa che io adoro che uso spesso anch'io infatti mi rende molto odiata perché a lui e al professore la tollerano a me me odiano è la magliautica ossia tu fai un'asserzione benissimo smontiamo questa asserzione io comincio a fare una serie di domande per cercare di di costruire tutti gli elementi logici di cui è fatta l'asserzione che hai fatto per cercare di capire di arrivare al fondo e di smontarla in elementi logici più piccoli per cui si può fare una verifica l'esempio banale è un video che vi metterò in descrizione mio vecchio gli uomini sono più forti delle donne se siete della mia generazione ma credo anche se siete più giovani non lo so dovrei essere più giovani per saperlo oppure se ci sono dei giovani che me lo vogliono dire questa asserzione è considerata ovvia lo sanno tutti che gli uomini sono più forti le donne ma che vuol dire in realtà si può smontare si può definire ci si può iniziare a chiedere cosa si intende per forza resistenza fisica massa muscolare che definizione di forza diamo in base a questa definizione di forza come compiamo la misurazione più forti intendiamo in media oppure tutti gli uomini qualsiasi uomo rispetto a qualsiasi donna e via via fare lo smontaggio e l'analisi che è quello che ha cercato di fare Boldrin con Delly giovedì sera io l'ho trovato avendo io passione per questo tipo di ragionamento l'ho trovato mi sono divertita proprio tanto mi sono divertita tanto però poi dopo ho continuato a pensarci e non trovo sufficiente dire vabbè Delly non ha capito quel tipo di processo quel modo di argomentare e vabbè ha i suoi pregiudizi e pace chiudiamola così non lo trovo adeguato perché secondo me un paio di errori logici di rilievo che ha compiuto Delly Mello e che hanno fatto sì che dal punto di vista delle argomentazioni le argomentazioni di Boldrin risultassero più efficaci sono interessanti da analizzare il professore e ha cercato di analizzarle ma non si è riuscito non perché lui non possa a differenza di me ma perché lui aveva l'idelli che gli rispondeva e quindi era difficile io sto qui parlo da sola con la telecamera nessuno mi ferma e quindi ho più agio e quindi allora secondo me il primo problema proprio di come è stata impostata la discussione è a Monte risale a mesi fa quando Delly Mello fu bloccato su Twitter da Michele Boldrin e fece un primo video dove parlava d'altro e di sai questo il grande professore che mi ha bloccato mi ricordo che commentò questa cosa da allora Delly ha espresso una posizione che io in passato lo seguivo più mi interessava la parte di come si fa a far diventare un video virale come si fa a acquisire visualizzazioni mi incuriosiva e lo ascoltavo volentieri oppure anche tipo quando c'era un fatto di cronaca di particolare rilievo che suscitava un particolare dibattito e io sapevo che comunque sempre la posizione di Delly sarebbe stata originale cioè io magari non l'avrei condivisa però sarebbe stata una cosa originale a cui non avevo pensato e mi poteva dare un nuovo spunto di flessione poi ho smesso di seguirlo non perché oddio hai detto questa cosa mi hai fatto no è che le cose capita gli interessi si affastellano si cambiano si sostituiscono e quindi non ne so seguire altre cose e l'ho un po' perso di vista e l'ho ritrovato ultimamente in live con Guanabit Buddha che pure lì sarebbe interessante sarebbe veramente interessante però non so se c'è più disponibile il video perché io ho seguito la diretta su Twitch non so se il video è ancora disponibile su Twitch non ho idea se sia stato caricato sul canale YouTube comunque e poi non so ha detto il professore durante la live che a parte quel video che ho beccato io Dallini ha fatti altri due di dissing verso Boldrin che non ho visto e poi ieri sera e secondo me tutta la discussione parte da un difetto su come è stata impostata ossia sul fatto che Dallini ha impostato il ragionamento sul se sostieni che tutti i politici attuali sono indegni di fiducia e che non si può votare il meno peggio che votare il meno peggio non è una soluzione allora sei un populista secondo me questa roba è impostata male perché parte dall'idea di fare di una opinione personale di una scelta personale di una posizione etica più che legittima partecipare attivamente alla vita politica oppure non partecipare alla vita politica una questione che possa essere vera o falsa per cui uno o l'altro può avere ragione io non ritengo e ora ve lo argomento poi io potrei avere torto e potrebbe invece essere che effettivamente c'è un modo di dire qual è quella giusta e quella sbagliata e invece a me sembra che rientriamo nell'ambito delle scelte che cos'è una scelta è qualcosa una decisione che noi prendiamo una opzione che scegliamo tra due o più opzioni di cui non siamo in grado nel momento in cui compiamo la scelta di sapere con certezza le conseguenze e quindi non potendo sapere con certezza le conseguenze noi dobbiamo prendere una decisione che è una scelta ci sono addirittura scelte che possono essere sia giuste sia sbagliate e che al limite si potranno valutare alla luce delle conseguenze dopo che la scelta sarà stata fatta ma comunque resterà sempre ignota quello che sarebbe potuto succedere se fosse stata fatta l'altra scelta ci sono scelte invece che se anche le conseguenze sono note o sono più o meno valutabili in termini probabilistici dipendono da valori dall'insieme dei propri valori di riferimento dalle proprie visioni etiche e quindi magari tu senti dover prendere la scelta che per te è più dannosa perché ritieni che sia per te la più giusta invece Delly andando a porre imponendosi come la scelta mia è quella giusta la scelta tua è quella sbagliata a quel punto ha avuto su se stesso l'onere della prova l'onere della prova che di per sé secondo me non c'è modo di io ho fatto un video vi metterò in descrizione dove ho cercato di argomentare la validità del non andare a votare e tenete presente cioè Delly ha confessato a un certo punto di aver votato 5 stelle io ho confesso di aver militato 5 stelle all'inizio e dando ore ore del mio lavoro gratuito come volontario di basso livello senza nessuna intenzione di essere mai candidato a niente che a un certo punto ho tremato perché è stata ventilata vagamente questa cosa di candidarmi alla regione Lazio e io sì va bene se l'ho preso come una poi fra la fine è stato candidato qualcun altro perché non l'avrei fatto volentieri però ho militato da quando io ero bambina perché io sono la figlia di un operaio comunista del 1943 Ilva di Bagnoli comunista persona che ha preso la terza media di quella generazione che non devi essere ignorante anche se sei nato contadino anche se sei nato povero mio nonno era contadino tu hai tutta la vita il dovere di studiare per renderti migliore quel tipo di buon molle era mio padre militava fortissimamente mi ha educato in quello e io ho iniziato i miei attivismi verso i 14 anni il PD non si chiamava ancora PD si chiamava in un altro modo provate voi a indovinare come si chiamava fatevi due conti e poi ho militato con Di Pietro e poi ho militato con i 5 stelle se ci sono state delle altre cose in mezzo non me lo è probabile perché comunque avendo io questo grande desiderio di essere un cittadino che partecipa cercando avendo questo grande desiderio del mio contributo ho cercato di dare il mio contributo ovunque mi è sembrato che potevo ovviamente le messe io e vabbè se si arriva a questa posizione ci si arriva perché si è fatta una certa esperienza e in buona fede dal mio punto di vista nel video che vi linkerò in descrizione io ho cercato di argomentare perché secondo me è una scelta anche razionale funzionale con un'utilità però non vuol dire che io sia riuscita a dimostrare che è l'unica scelta che si può fare o che è l'unica scelta che va fatta e nel momento in cui Dalli si è posto dicendo no invece è la scelta del votare il meno peggio l'unica scelta razionale l'unica scelta che si può fare ha caricato sulle sue spalle l'onere di una prova impossibile e che comunque nell'insieme non è riuscito ad argomentare che anche perché e torniamo qui e arriviamo poi alla seconda fallacea logica perché questa era la prima cioè intendi credere che una posizione che è una posizione etica soggettiva sia una posizione scientifica soggettiva e ti infili nel cul de sac da solo quindi cosa ha fatto il professore? ha iniziato a applicare quel metodo che adoro che mi piace tantissimo che è prendi l'affermazione del tuo interlocutore e inizia a dividerla nei pezzi piccoli nei vari elementi logici di cui è composta per cui questione preliminare Delly ma secondo te adesso la situazione in Italia va bene o va male? non fa schifo perfetto io sono d'accordo con te quindi visto che siamo d'accordo non serve che ne parliamo Delly secondo te perché questa situazione fa schifo? perché risposta di Delly perché la classe politica ha una visione corta non sul lungo periodo non non predispone non fa interventi sul corto periodo ma fa cioè sul lungo periodo non fa grandi riforme non fa cose che servono ma sta lì a fare piccoli provvedimenti day by day e pure lì Valdrine non sono d'accordo con te quindi togliamo sono d'accordo quindi non serve che ne parliamo e secondo te quando è cominciata questa cosa? cioè da cosa dipende che la classe politica fa questa cosa? e lì comunque cioè già Valdrine è stato anche abbastanza buono perché io a quel punto avrei detto scusami ma tutta la classe politica o c'è qualcuno di partiti di minoranza che invece secondo te propone grandi riforme però alla fine il professor lo sapeva sarebbero comunque arrivati a Renzi perché ad un certo punto Delly non sapendo come insomma spiegare non non essendo riuscito cioè non avendo un'idea lui chiara di delle complesse o non ce l'ha o comunque a un certo punto ha balbettato proprio cioè non quando Valdrine gli ha chiesto ma da dove nasce il declino italiano si possono avere tante teorie la mia è che nasce negli anni 70 col fallimento del 68 delle proteste ma si possono avere tanti punti di vista Delly ha biossicato e ha proposto una visione che parte con un inizio del declino dalla nascita del Movimento 5 Stelle cioè in realtà tra i 10 e i 20 anni fa che secondo me è una visione un pochettino corta corta cioè proprio è focalizzarsi su i giochi di potere tra i partiti senza andare a cogliere che questi giochi di potere tra i partiti sul consenso sui posti in Parlamento sulle dirigenze su proprio il potere la gestione il controllo e la gestione del potere si infilano cioè sono un elemento di un contesto ampio che prevede anche gli andamenti economici la produttività i servizi c'è tutta la cultura delle persone il mondo esterno all'Italia che cambia e quindi interagisce in modi diversi con quello dell'Italia l'ho vista una cosa un po' di breve termine e lui a un certo punto ha detto perché il problema è che va fatta la riforma costituzionale o almeno la riforma della legge elettorale e qui andiamo a quella che secondo me è l'altra grande fallacia logica che lui ha evidenziato allora da un lato non è riuscito a dimostrare che effettivamente fare la riforma costituzionale rinziana quella che abbiamo bocciato io ho orgogliosamente votato no e ho orgogliosamente fatto propaganda per il no e posso stare qui a argomentarlo per settimane perché dal mio punto di vista delle mie valutazioni di cittadino che ha il diritto di votare e decidere era no ed era giusto votare no e la riforma quindi mi sono persa il discorso allora quindi lui ha sostenuto che il problema è che bisognava fare la riforma costituzionale o almeno la riforma della legge elettorale e che l'Italia ha perso una grande occasione di rinascita bocciando la proposta di Renzi di qualche anno fa però non è lui non è riuscito a dimostrare che effettivamente fare la riforma costituzionale renziana o fare la riforma della legge elettorale avesse un qualche peso sull'andamento della situazione perché della situazione politica che vuol dire la situazione politica è quello che succede in Parlamento è quello che succede tra i partiti a chi ha più o meno percentuale di consenso o è come noi viviamo la qualità della vita di noi cittadini il pil il pil pro capite il professor dice sempre per capita meno libri continuo a trovare pro capite poi glielo chiedo un giorno l'accesso ai servizi i diritti civili le libertà fondamentali l'istruzione il livello di cultura generale io quando penso se la situazione politica dell'Italia è migliore o peggiore rispetto a quando sono nata e poi avevo 10 anni e poi ne avevo 20 e poi ne avevo 30 e poi ne avevo 44 martedì prossimo io penso a questo non penso alle relazioni tra i partiti a quanto durano i governi se c'è non c'è stabilità se c'è una classe politica che c'è il potere di fare le cose oppure no quindi secondo me c'è anche questo il piano di incomprensione cioè cos'è che ci interessa veramente però comunque se anche lui non è riuscito a argomentare e a dimostrare dove cercava di portarlo il professore che l'attuale situazione di stagnazione generale economica sociale culturale del paese dipenda possa avere neanche dipenda possa avere un effettivo beneficio dal fare questo tipo di riforme una cosa che sotto traccia è immersa perché poi a un certo punto è caduto il microfono poi a un certo punto Delli in realtà in vari punti ha cercato di buttarla in caciara cercando di sfuggire a questa metodica regolosa che è quella maiautica per cui tu fai l'affermazione e viene smontata pezzo pezzo e se un pezzo dell'affermazione tu lo giustifichi con un'altra affermazione si prende questa e si inizia a smontare questa seconda affermazione che hai fatto pezzo pezzo cercando di sfuggire a questa analisi chirurgica delle sue asserzioni ha cercato un paio di volte di tirare fuori gli artifici retorici un paio di volte il professore ha fatto finta di non sentire alla terza quella del battito dali della farfalla che causa che si è pure quello cioè è un artificio retorico è bellino è una bella immagine il battito dali della farfalla qua il maremoto in Giappone o viceversa non mi ricordo non essendo una metafora che mi piace particolarmente non la uso sovente però l'idea è che appunto è tutto collegato e vabbè se è tutto perché il professore a quel punto si è incazzato cioè poi in realtà non si è realmente incazzato però ha fatto un po' il professore c'è un nome cazzo non mi vedi per il culo perché è un artificio retorico che suona bene è carino è simpatico da sentire ma in realtà non dice niente di concreto perché se è tutto collegato allora che senso ha cioè se è tutto collegato a tutto che se come parrebbe intendere chi usa questa metafora che senso ha cercare di fare un'analisi non ha senso non ci sono analisi possibili tutto è collegato a tutto tutte le variabili che si influenzano a vicenda non è possibile dal punto di vista logico isolarne una o un gruppetto per vedere gli andamenti dei flussi come si passano gli input e gli output all'una e all'altra quindi non ha senso a quel punto cioè se tu mi fai un'affermazione del genere che guardando il video di Telly parrebbe che lui considera un esempio che lui fa così non siamo scusatemi non voglio dire brutte cose e quindi cioè se tu dici quella cosa la dici con l'innocenza del bambino col pallone in realtà tu ti devi rendere conto che stai dicendo che tutte queste due ore che siamo stati insieme abbiamo perso tempo perché non è possibile fare nessuna analisi di niente io lo so che lui l'ha detto in buona fede voglio credere che lui l'ha detto in buona fede però proprio quella la differenza tra un discorso retorico infarcito costruito ripetendo le cose che si sentono dire o che si credono per devozione senza aver fatto un'analisi sistematica di ognuna delle proprie asserzioni non dico delle asserzioni degli altri anche se sarebbe bello riuscire a fare delle asserzioni degli altri ma potrebbe partire dalle proprie ok e mettersi lì e smontarsene pezzo pezzo per cercare di capire se funzionano un discorso di questo tipo ha un valore logico culturale intellettuale superiore rispetto a un discorso in cui io ripeto le cose che sento dire o le cose che io in buona fede credo mi sembrano vere senza preoccuparmi di analizzarle andare a fare una verifica se queste cose hanno fondamento o io le credo vere solo perché le ho sempre sentite dire da tutti quindi lei non è riuscito a dimostrare la necessità di fare la riforma cioè non è riuscito a dimostrare che se veramente avessimo fatto la riforma costituzionale rinziana oppure una riforma elettorale l'ennesima io ragata quando la prima volta ho stato parlato di riforma elettorale era il 1993 io ero al liceo e per la prima volta passavo da un sistema proporzionale spinto che era quello che i miei genitori avevano sempre usato tutta la mia infanzia ad un sistema maggioritario e lì cioè quindi dal 1993 a mo non mi dite che non abbiamo fatto riforme elettorali ne abbiamo fatte ne abbiamo fatte tante ok la prima di cui io ho cognizione che facevamo nel 1000 che venne fatta nel 1993 o 1994 non dovrei andare a controllare era appunto volta a cercare di dare maggiore stabilità ai governi e quindi qui arriviamo a quella che secondo me è la seconda fallacia logica di Delli che spiega sia la sua idea sulla legge elettorale che la sua idea sulla riforma costituzione di Renzi anni dopo quel famoso 1993 sono andata mi sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza ho studiato diritto costituzionale il mio professore non era era molto rinomato a livello politico si chiamava scudiero e però il testo su cui ho studiato era il temisto Clay Martinez che è quello che il professore ha tirato fuori l'altra volta l'ho studiato dentro e fuori perché mi sono profondamente appassionata una questione che mi ha profondamente coinvolto è stato il problema della legge elettorale se voi andate a leggere il temisto Clay Martinez ma qualunque altro testo di diritto costituzionale vi renderete conto che qualsiasi legge elettorale in ogni luogo in ogni lago citazioni pop ha sempre lo stesso problema il problema è sempre quello che cos'è una legge elettorale è un sistema l'ho anche detto in quel famoso video dove cercavo di argomentare perché è lecito e dignitoso anche non andare a votare è un metodo per contare il consenso il consenso è il problema fondamentale non solo delle democrazie ma di tutti gli ordinamenti politici di tutti i luoghi di tutti i tempi in ogni icchiett non c'è storico in democrazia noi questo problema del consenso lo risolviamo contando il consenso il problema è che 60 milioni quasi di residenti in Italia 60 milioni di idee diverse quindi perché alla fine le decisioni prese possano essere considerate democratiche devono adempiere una serie di requisiti formali che appunto servono a tutelare il diritto alla partecipazione alla scelta politica di tutti i cittadini ma se io potessi nel mondo ideale tenere conto di 60 milioni di teste difficilmente riuscirei a ottenere delle maggioranze e dei governi stabili che hanno il consenso per tendere le decisioni perché dovrebbero essere 60 milioni di decisioni che vanno in conflitto le une con le altre e quindi si cerca di regolare le leggi elettorali in modo che sì ci sia la rappresentanza per i cittadini ma che anche si possa avere delle maggioranze stabili e quindi praticamente i due sistemi polarizzati estremi proporzionale spinto maggioritario estremo totale maggioritario totale quello che ha più voti comanda ma ha avuto solo il 12% ha più voti comanda maggioritario totale proporzionale estremo ogni voto con te devono essere tutti misurati col centilitro perché ogni voto deve avere una precisa spaccata rappresentanza in Parlamento i due estremi se tu tendi più verso il proporzionale aumenti molto la rappresentatività che puoi dare attraverso gli organi eletti ai cittadini ma riduci probabilmente poi dipende molto la stabilità delle maggioranze e dei governi se tendi più verso il maggioritario dai maggiore rappresentatività a maggioranze e governi ma riduci la rappresentatività questo poi dipende nel senso che dipende da che tipo di cittadinanza c'hai cioè tu questa legge elettorale non è che sta lì nell'iperurano tu la devi sempre applicare al fatto che è una precisa elezione in un preciso etnus storico in un preciso territorio geopolitico che c'ha dei cittadini che sono quelli e non sono altri in particolare fin da giovanissima a me è sempre sembrato evidente poi correggetemi se sbaglio ma a me sembra poco evidente che i cittadini italiani tendono a coalizzarsi in gruppi di consenso piccoli in conflitto gli uni con gli altri e quindi se tu a questi italiani cerchi di dare maggioranze stabili agendo solo sulla legge elettorale e non agendo anche sul piano elettorale cercando di favorire la coesione sociale e politica ottieni che queste maggioranze stabili non sono effettivamente rappresentative della realtà politica che hai nel paese questo è esattamente quello che secondo me e per questo io ho convintamente votato no e convintamente ho cercato ho parlato con i miei amici i miei conoscenti per cercare di convincerli a votare no in tutti i modi alcune volte sono riuscita altre volte non sono riuscita e proprio perché secondo me mia posizione etica non è giusto uccidere la rappresentanza uccidere la possibilità dei cittadini di vedere le proprie istanze rappresentate dalle istituzioni politiche per ottenere la stabilità e questo è il netto del fatto che se gli avessimo dato retta avremmo avuto un governo 5 stelle che poteva fare quello che voleva con Di Maio quell'altro quello che sta è tornato a modo al sud america pure che mi sono scordata pure Alessandro Di Battista ok al netto di questo era proprio una posizione etica e di più siccome ci troviamo tornando a 32 minuti fa nel video di fronte ad un problema di scelta cioè è un problema di scelta etica a prescindere dalle conseguenze a prescindere dai possibili ipotetici vantaggi che tu potresti avere tu comunque devi scegliere diamo per scontato che una riforma costituzionale della legge elettorale nel senso di favorire la stabilità politica rinunciando alla rappresentanza facciamo per ipotesi che noi siamo sicuri che dà dei vantaggi nell'insieme economici ma non solo proprio nel senso ampio della qualità della vita dei cittadini nel territorio nazionale dei residenti nel territorio nazionale se neanche lo diamo per scontato io comunque ho il diritto di scegliere se io sono disposta a pagare questo prezzo per questo vantaggio e se io non sono disposto a pagare questo prezzo per questo vantaggio io ho diritto di dire che non sono disposto e tu non hai diritto di dirmi che sono un coglione populista per il fatto che io ho questo sistema di valori diverso dal tuo perché altrimenti i padri costituenti citati anche da Boldrin giovedì sera ma anche da Nellimello non ci avrebbero imposto delle norme sulla riforma della costituzione tali che se non riesci ad avere una maggioranza la più ampia possibile in Parlamento devi andare a fare il referendum perché se tu hai avuto quella maggioranza amplissima la maggioranza qualificata in Parlamento vuol dire che in teoria la maggioranza dei cittadini condivide quella riforma se non riesci ad avere tu devi andare dai cittadini a chiedergli a prospettargli i vantaggi che con quella riforma ritieni di poter ottenere a prospettargli il costo che ha ottenere quei vantaggi e lasciarli scegliere in pace in questo senso e quindi questa è la seconda falla che si ricollega alla prima falla sostenere pretenere che una questione di scelta che una questione etica sia invece una questione oggettiva e quindi se tu lo fai per la tua scelta personale a maggior ragione questo modo di ragionare tu lo trasferisci anche sulle scelte politiche dove non riesci a distinguere un fatto scientifico misurabile per il quale si può dire se è vero o falso da una questione di scelta di volontà di decisione per cui i cittadini hanno diritto di decidere se lo vogliono o non lo vogliono a prescindere dagli eventuali vantaggi che ne possono derivare perché possono hanno tutto il diritto di ritenere che i costi sono che ci vanno a mettere sono superiori i vantaggi o comunque che loro quel costo non lo vogliono spendere l'ultima cosina che ho notato che a un certo punto sembrava quasi che Delly intendesse una cosa che io ho sempre pensato di Renzi per la quale non ho le prove e spero fortemente di sbagliarmi la cosa che io ho sempre pensato che l'idea di Renzi fosse di cercare di accattivarsi il più ampio consenso con un discorso molto suadente che non ha niente a che vedere con la necessità di lavorare aumentare il PIL niente molto suadente molto capace di vincere contro le 5 stelle quando erano più popolari infatti ad un certo punto ha vinto per poi andare a fare una riforma costituzionale che gli desse i pieni poteri e la possibilità di andare a fare esattamente l'opposto di quello che aveva promesso questa è la mia impressione soggettiva ovviamente io non lo posso dimostrare mi è sembrato che a un certo punto nel confronto con Boldrin venisse fuori questa cosa e se fosse quello che pensa che Delly giustamente a quel punto Boldrin gli dice allora il populista sei tu il populista è Renzi che cercate di accattivarvi il consenso politico senza dire la verità alle persone ma mentendoli per poi fare come vi pare quindi in tutto questo ne ho parlato lungamente col fidanzato perché parliamo lungamente di queste cose quando facciamo la conversazione secondo me però dovrebbero rifare perché alla fine è stato molto intrattenente e molto istruttivo e io sono d'accordo è stato davvero molto intrattenente e davvero molto istruttivo però nel momento in cui dopo Delly va a scrivere il commento e ho vinto io ti rendi conto come quando D'Alemma gioca a pinball e non dai punti che figura ci fai è vero che sei giovane ma sei ometto santa pace e quando a certo punto gli sono state fatte le obiezioni e adesso io non voglio pensare che lui mi abbia detto cioè diciamo che sta riprendendo delle tecniche che promuoveva quando era più giovane per cui lui cerca di far incazzare le persone così poi le persone commentano e i suoi contenuti hanno hype diciamo che questo perché se tu dici alle persone che tutti quelli che non sono d'accordo con te sono solo dei fan che non hanno capacità critica figlio mio vuol dire che c'ha ragione solo chi dà ragione a te tutti quelli che ti danno torto che ti avanzano una critica per definizione ci hanno torto e come è possibile un confronto su sto piano 38 minuti cioè questo è il mio record se c'è qualcuno che guarda sto video fino in fondo borraccia borraccia scrivetemi borraccia perché io non ci credo che c'è qualcuno che arriva a guardare questo video fino in fondo vi ringrazio tutti mi siete mancati tanto infatti ho parlato tantissimo ho la bocca secca vi ricordo che questo canale tendenzialmente salvo le eccezioni come stasera parla di di commento giuridico e politico ai fatti di cronaca e in generale divulgazione giuridica che ha quattro rubriche il vlog di divulgazione giuridica in cui ci facciamo entrare anche quella di stasera perché in qualche modo di diritto abbiamo parlato ha il corso di scienze giuridiche al bar chiedi ad Antonella ma chiedetemi quello che volete e io cerco di farvi dei video dedicati per rispondervi su tutto quello che volete e intervallo dove parlo delle cose pop che mi piacciono che sarebbero tipo l'intervallo delle lezioni di scienze giuridiche al bar vi prego di se avete trovato questo video interessante o gli altri video del mio canale interessanti vi prego di iscrivervi mettere un badge al canale vi prego di mettermi like a questo video in modo da aiutarmi a farlo girare vi abbrazzo tanto e ricordatevi sempre che l'educazione non è la reparazione la vita l'educazione è la vita stessa ciao